E' stata denominata Operazione Gangia, proprio come in gergo i giovani chiamano la marijuana, lo stupefacente al centro della rete di spaccio che interessava principalmente giovanissimi assuntori e che ha portato a quattro ordinanze di misura cautelare nei confronti di tre giovani aretini e di un gabonese. I quattro pusher adescavano studenti fuori dalle scuole oppure alla fermata dell'autobus e per una decina di euro gli vendevano una dose di stupefacente. L'operazione ha preso avvio a Sansepolcro nel marzo 2016, quando alcuni minorenni sono stati trovati in possesso di svariati grammi di marijuana. I militari hanno così identificato il primo degli spacciatori coinvolti, un ventenne residente ad Arezzo, finito in manette perché trovato in possesso di 50 grammi di stupefacente e pronto per essere venduto. Specifiche attività di indagine condotte col metodo tradizionale di appostamenti e pedinamenti e con l'ausilio prezioso di specifiche attività tecniche hanno consentito di acclarare una consistente, cospicua e massiccia attività di spaccio poste in essere dal soggetto in questione e con il concorso di altri due soggetti. Una ragazza sempre originaria di Castiglione Fibocchi, una studentessa incensurata e di un altro giovane originario di Castiglione Fiorentino, anche studente incensurato. Le zone più utilizzate dalle illecite attività erano quelle dell'autostazione nei pressi della stazione ferroviaria, il parco Giotto, i principali luoghi di aggregazione pubblica quali il Prato e il parcheggio Cadorna, assuntori per lo più minori di qualsiasi estrazione sociale e per lo più studenti degli istituti superiori del capoluogo. Le successive indagini hanno portato all'identificazione di quello che è stato indicato come il pusher di punta dell'intera organizzazione, un 37enne originario del Gabone in attesa del riconoscimento dello Stato e di asilo politico. Aveva raggiunto il paese nei primi mesi dell'inverno scorso, quindi fine anno scorso, ed era ospite di una struttura del Casentino. Era solito adescare i minori dinanzi agli istituti superiori con l'ausilio degli altri tre soggetti poi destinatari delle misure cautelari. I carabinieri della tenenza di Sansepolcro hanno eseguito le ordinanze di misura cautelare messe dal GIP del Tribunale di Arezzo per Giorgio Ponticelli, che ha disposto la custodia in carcere per il 37enne, gli arresti domiciliari per due dei giovani aretini, ed infine l'obbligo di dimora per l'altro pusher.